Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Aia, e vabbè su tutti i vostri Comunque oggi stiamo andando a Castel Gandolfo Per prendere un caffè insieme ad altri motociclisti Che non conosco Ora ne approfittiamo per fare anche qualche conoscenza Infatti ora ho l'appuntamento con una persona Che fa parte del gruppo Facebook motociclisti della Regione Lazio Per arrivare al punto di incontro Che sarebbe una stazione di servizio sulla Prenestina Devo prendere il raccordo E poi un pezzetto di A24 Non l'ho mai presa l'autostrada da solo Spero di non perdermi Infatti ho improvvisato un interfono al volo Vabbè ragazzi lascio questo pezzo di strada Perché oramai il raccordo è tutto dritto Ci vediamo quando arriviamo al punto di incontro Anche perché non riesco a parlare C'è troppo vento Sotto stress l'ho capito A mie spese Nessuno esistese Le telecamere non sono accese Il rap del mio paese Un po' qua un po' là Un po' rock Un po' dance Un po' facce Ballac Allora ragazzi sono arrivato alla pompa di servizio Dove dovremmo attendere Luca Ovvero il nostro amico che ci guiderà fino a Castel Gandolfo E ho preso un cappuccino che faceva del poco Ora ci dirigiamo verso Castel Gandolfo Aspettiamo Pino? Eh? Ok Ci siamo incontrati con Pino e gli altri E quindi ora ci dirigiamo verso Castel Gandolfo Però da quello che ho capito facciamo più un giro panoramico Per non fare la solita strada dritta Il primo saluto della stagione ragazzi Già si sente l'aria più pulita e non inquinata delle città Dai tica 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 Mamma mia che bello Che spettacolo Da quanto pare siamo arrivati Questa è la strada che ci porta giù Che spettacolo Che spettacolo Che spettacolo Guardate un po' di spettacolo Mi so cacati in mano Intenzione al Pantavi Abbiamo sbagliato le strada Aiuto Ce l'ho fatta Ora siamo di nuovo a Castel Gandolfo E non so forse ora ci salutiamo E quindi torniamo poi a Torniamo verso casa Spero che il video vi sia piaciuto E' stato un giro bello breve Giusto per conoscersi anche con questo nuovo gruppo E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti